I torinesi si sono dimostrati virtuosi nella raccolta differenziata, però c'è ancora molto lavoro da fare. Proprio per questo si è pensato ad un evento di coreografia collettiva con un titolo eloquente. Sì, il mio pianeta è una logica nuova con cui cercare di vedere una cosa importante come quello che è il gesto che chiediamo un po' tutti i giorni ai cittadini di compiere, che è quello della separazione degli imballaggi domestici. La logica è quella di rivedere questa azione pensando ad un mondo che è il tuo mondo, quindi sentendolo più vicino. L'ottica cambia un po' la semplicità delle cose perché te le rende immediate, te le rende più vicine. È un evento che abbiamo iniziato ormai un paio di settimane fa a Milano, è un evento nazionale, lo porteremo da nord a sud. Tutto nasce da un video che è il mio pianeta, che è virale, ormai sono già 120.000 visualizzazioni, lo potete trovare sul sito o su tutti i canali social di Conai. Racconta appunto come ogni giorno la separazione degli imballaggi permette agli oggetti di tornare a nuova vita. Gli imballaggi, in questo caso qui a Torino abbiamo scelto quelli in legno, per cui nell'evento ci sarà una cassetta di legno che si trasforma e diventa un tavolino. E questa è la prima parte della performance. La seconda parte invece è una storia che stiamo raccontando, ripresa dall'alto da un pallone aerostatico. È un video racconto dalla semplicità della separazione di un imballaggio. Si vede come tutto questo impatta positivamente sulla vita di tutti i giorni, all'interno della casa, del quartiere, della città, dello Stato, dell'Europa e poi di tutto il mondo. Questa è un'operazione che stiamo portando avanti per far capire ai più giovani anche quello che è l'importanza della raccolta differenziata e del riciclo dei sei materiali di imballaggio. E' anche previsto un flash mode, un gesto significativo per sensibilizzare? Assolutamente, l'idea è stata proprio quella di coinvolgere degli youtuber, questo perché sono ormai dei propri veri canali televisivi. Hanno una grossa capacità di attirare i giovani, di parlare ai giovani nel loro linguaggio e di portarli anche qui in piazza da noi. Il flash mob verrà ripreso live e visibile sul mio pianeta.it e attraverso il canale facebook di Conai gli youtuber faranno delle live raccontando quello che sta accadendo e richiamando comunque l'attenzione dei più giovani.